Ciao! Oggi vi mostro due metodi per pulire i fichi d'India che in questo periodo si trovano. Sono ricchi di minerali, calcio, fosforo, vitamina C. Sono concessi sia per il nickel che per l'istamina. Ma andiamo a vedere come si possono pulire. Vi consiglio sempre di usare forchette e colpello perché anche se vengono spinati, e ci si può sempre ritrovare qualche micro spina dentro la pelle e poi fa malissimo toglierla. Allora, passiamo al primo metodo. Togliamo le estremità, poi andiamo a incidere in perpendicolare, con tutta la buccia, incidiamo alla base per sollevare il lembo, dopodiché lo facciamo scorrere. In questa maniera si può pulire velocemente un fico d'India, però il fico d'India deve essere arrivato a giusta maturazione perché se è troppo maturo questa tecnica non funziona tanto bene. Ecco qui! Ed è pronto! Questa è la varietà verde. Ci sono tre varietà, verde, arancione, bicolore e rossa. Però non vi fate per rendere troppo dal fatto che è verde, perché spesso quelli verdi sono più saporiti di quelli rossi, che tendono quasi a essere quasi sfatti. La seconda tecnica invece, tagliamo sempre le estremità, e poi tagliamo per la lunghezza a pezzi, come si fa anche per l'arancia. Dopodiché, partendo dalla base superiore, andiamo a far scendere verso il basso e puliamo il nostro fico d'India. Questa tecnica va bene anche quando è più maturo. E ecco pronto anche quest'altro. Quando vuoi fare il video, si stacca sempre e non esce mai perfetto. Va bene. E questa è la seconda tecnica. Quindi potete decidere, in base a come vi trovate più comodi, quale delle due tecniche utilizzare. Se quella in orizzontale o quella in verticale. Ma sono entrambe comode. Eccole qui, pronte per essere gustate. Dolcissime! Questo è tutto. Ricordatevi di iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao! 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 Grazie a tutti.